Assessore, c'è un nuovo servizio attivo al Comune di Gela attraverso il web. All'interno del sito del Comune c'è un nuovo portale, il portale Tributi, che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione o comunque di versare i tributi stampando da casa comodamente l'F24. I cittadini potranno da casa andare a verificare quella che è la loro situazione relativa ad esempio al 2016 e nell'ambito di questo verificare se è corretto o non è corretto, laddove dovessero i cittadini verificare la non correttezza perché c'è qualche errore ad esempio per ciò che riguarda immobili o magari immobili ventuti o ceduti eccetera, può direttamente da casa apportare le modifiche, salvare la schermata, stamparsi il proprio modello. Sarà poi lente il Comune a verificare e controllare l'esattezza dei dati inseriti in modo tale che si evitano file spesso inutili di ore da parte di tanti cittadini buttati qui al Comune, francamente una cosa che trovavamo nel 2016 alquanto errata. Bene, ci sono diversi servizi appunto che sono attivati all'interno di questo nuovo portale del sito del Comune e però una cosa importante è che all'interno della busta in cui verrà recapitata la bolletta della Tari per intenderci quella relativa ai rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta dei rifiuti, ci sarà la comunicazione dell'account, cioè ogni cittadino riceverà il proprio account per potersi collegare. A fine di semplificare ulteriormente l'approccio a questo portale, nello stesso tempo evitare di complicare la vita dei cittadini, abbiamo già inserito, quindi anticipando sotto questo profilo la possibilità di perdita di tempo in registrazione eccetera, abbiamo inserito per ogni cittadino la propria posizione ID e password al fine di accedere, ma laddove per un motivo o per un altro ciò non dovesse essere perché magari non è rivilatario o roba del genere, in ogni caso si può facilmente bypassare sopra il problema attraverso una registrazione che praticamente impiega 30 secondi grossomodo. Qualora invece un cittadino si affide ai professionisti, quindi ai CAF o ai consulenti o commercialisti, e saranno questi invece a caricare i propri clienti e poi a stipulare un protocollo d'intesa col comune per poter regolarizzare la posizione dei clienti? Sì, laddove ci sono cittadini che per un motivo o per un altro hanno difficoltà ad approcciarsi al sistema informatico, possono senz'altro rivolgersi a CAF, professionisti, sia essi commercialisti, sia essi ingegneri, geometri e quant'altro, i quali in seguito a quello che sarà e quello che è un minimo di protocollo d'intesa collente opereranno in nome e per conto dei propri clienti, così da dare anch'essi il contributo ai propri clienti.